Nella sede di Frosinone della Coldiretti, il capogruppo provinciale del PDL Mario Abruzzese ha incontrato i rappresentanti delle associazioni agricole per raccogliere adesioni al documento da inviare al Ministero dello Sviluppo Economico e far sì che la ciociaria venga riconosciuta come area di crisi. Sì, oggi ho incassato la disponibilità anche delle tre organizzazioni professionali agricole anche se non hanno nulla a che vedere con le aree di crisi perché sono escluse da questo provvedimento però hanno dimostrato un grande senso di responsabilità perché l'economia agricola rappresenta un segmento importante del nostro territorio. Questo significa ribadire quel famoso concetto di fare squadra e di responsabilità sociale che mi inorgoglisce perché significa che in questa provincia sta cambiando qualcosa. Avere una voce univoca su queste problematiche e fare arrivare il nostro appello al Ministero dello Sviluppo Economico probabilmente potrà sortire gli effetti necessari. Ma a che punto è la redazione del documento strategico comune? Abbiamo preparato già la delibera, devo dire che l'assessore Trina e il presidente Antonello Iannarilli stanno lavorando con molta attenzione, ci stiamo dividendo i compiti, domani incontreremo anche l'università per avere un po' di dati necessari per supportare questa proposta perché non dobbiamo portare solo le chiacchiere o le parole ma dobbiamo aggiungere a questa proposta, seppur di indento da parte della politica, un supporto tecnico economico per convincere il Ministero di aprire il 151esimo tavolo di trattativa perché vorrei solo informare i telespettatori che ad oggi sono stati aperti 150 tavoli sulle aree di crisi manca ancora la provincia di Frosinone.